Allora sono padre Afif Mahoul, parroco della parrocchia San Luigi di Francia, Marunita. Sono d'origine di un villaggio si chiama Kvarberam. Nel 1948 è stato svuotato dall'abitazione per dire voi siete in pericolo. Allora per la vostra sicurezza allontanate 5 chilometri per due settimane. Queste due settimane sono durate 65 anni fino ad oggi. Non lasciano gli abitanti tornare a questo villaggio. Anzi dopo la sentenza del tribunale di poter tornare al villaggio non hanno lasciato. In contrario hanno bombardato il villaggio dal 1953. 1975 è stato il permesso di poter seppellire i morti nel villaggio, nel cimitero di villaggio. E così abbiamo l'unica cosa che abbiamo ristorato, la chiesa stessa, che anche io da qualche mese sono responsabile di questa chiesa. Celebro ogni sabato la messa in questo villaggio. La richiesta sempre nostra è di tornare al terreno che è rimasto libero. Anche se vogliamo calcolare un terzo del terreno che è possibile tornare a costruire il villaggio di nuovo, però il governo non ci lascia. L'abitanti di questo villaggio si trovano in un villaggio che si chiama Gish, in ebraico Gushalav, San Giovanni d'Acri, Akko, Nazareth, Haifa e anche a Gerusalemme qualche famiglia. E tanti anche sono all'estero per motivi di migrazione, di cercare sia lo studio sia il lavoro. Delle feste per pubblicità ho seguito. Mai sono stato nel luogo dove festeggiano i Wadi Nas Nas, perché la mia preoccupazione e il mio impegno di seguire la parrocchia e tante attività della parrocchia. Questo che non permette di stare in mezzo della gente. Però ho sentito che è positivo in senso, tra parentesi, commercio più che festa, perché oggi il consumismo è entrato ad ogni casa purtroppo. Il modello della cosistenza è Haifa, una città mista. Ebrei, cristiani, musulmani, non ci sono problemi fra le comunità diverse e la fede diversa. C'è rispetto reciproco, non ci sono problemi. Allora, i cristiani non sono felici perché sanno che non sono del primo grado nel senso della parola. Non sono cittadini di primo grado, perché le cose che dicono voi non fate il servizio militare. Allora, come non fate il servizio militare? Non avete il diritto come uno che fa il servizio militare. Ma chi dice non fate il servizio militare è il governo stesso. La legge, se la legge dice a tutti i cittadini l'obbligo del servizio militare, allora l'obbligo a tutti quanti, sia maschio sia femmina. E questo non dovrebbe essere una accusa, non fate il servizio militare. Per questo non avete il diritto come quello che fa il servizio militare. Allora, quando un giovane o una giovane sente questo, certamente dice se non permettete di fare quello e scegliere questo, allora io me ne vado per cercare la mia vita e la mia scelta libera. Questo è il problema grosso. Però, se noi votiamo il governo, allora abbiamo il diritto. Da qui nasce il diritto mio di vivere in un paese dove io sono nato, dove mio nonno, mio bisnonno è vissuto qua e è nato qua. Allora, non direi che dobbiamo tornare all'Antico Testamento. Dio ha dato questa terra promessa solo per una religione. Ha dato per Abramo e tutti i figli di Abramo, siano ebrei, cristiani, musulmani, sono figli di Abramo. Questo è il concetto. Io parto nell'educazione e nello studio primo. Nelle scuole non insegnano sia storia, sia geografia dell'estero come noi qui. Noi conosciamo benissimo la storia di Europa, la rivoluzione francese e tanti paesi, sia la geografia che la storia. Allora, se il bambino nasce a capire, a conoscere e a studiare, è così sa dove nel mondo, dove sia nel punto di vista geografico, anche storico. Qui sanno di altre nazioni. Invece in Europa, anche io sono vicino a questo concetto, quando dicono arabo, subito arabo musulmano. Non tutti gli arabi sono musulmani e non tutti i musulmani sono arabi. Basta leggere gli atti degli apostoli nel momento della discesa dello Spirito Santo. Chi era presente nel gruppo al cinacolo? Erano anche arabi. Dunque, gli arabi sono prima del cristinesimo. Sono arabi, hanno abbracciato il Vangelo, hanno abbracciato la fede in Cristo. Sono, siamo qui. Allora, la continuazione di questa prima chiesa che è nata a Gerusalemme. una nazione, romani, ebrei, arabi, cortesi, tutti i greci erano presenti. Dunque, la chiesa è tutta la nazione, non unica nazione. Io non direi correnti, io direi famiglie, famiglie, perché la chiesa unica è la chiesa di Cristo. Sia cattolica, sia ortodossa, sia anglicana, sempre fede in Cristo che è a capo della chiesa. Però, come nell'ambito sociale ci sono famiglie che formano la società, anche la chiesa, se ci sono venti riti diversi, il rito, soprattutto qui, non si sente come in Italia, per esempio. In Italia, quando si dice parrocchia, un quartiere, un paese, invece qui parrocchia appartenente a un rito ad personam. Allora, siamo uniti, certamente, a tutti i livelli, sia religioso, sia sociologico. Allora, la città di Haifa, se prendo il concetto di visa, se prendiamo dal Carmelo fino all'università, è maggioranza assoluta ebrei, perché questi quartieri sono nati dopo il 60, 65 e poi. Invece, dal Carmelo, dal, diciamo, Adar fino alla città bassa, ci sono ebrei, arabi, musulmani, cristiani. Per questo io direi mista, perché ci incontriamo, ci salutiamo, chi conosce l'uno l'altro ci saluta. Invece, quelle che vivono, diciamo, al Carmelo, che hanno tutti i quartieri, il bisogno, i negozi, il loro lavoro, allora, certamente, non ha bisogno di arrivare fino alla città bassa. In questo senso è divisa. Invece, parlando di Haifa, storica, città bassa, fino ad Adar, vivono insieme. Perché io sento il Moazin, nel momento del Moazin, cinque volte al giorno, però non questo disturbo. E loro sentono le vostre campane? Certamente, quando le campane suonano, sentono, certo. Non siete mai incontrati?